Buonasera da Alessandra Buccia, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. La politica in primo piano, la corsa verso le regionali si arricchisce di un nuovo candidato. Stiamo parlando del Presidente della provincia di Bari, Francesco Scrittulli, che inaugura il suo blog e annuncia la candidatura alle regionali del prossimo anno. Inizia una campagna elettorale e scrive che tutti dicono essere una corsa difficile al momento. Scrittulli è il secondo candidato della coalizione di centro-destra, dopo il Vice Presidente del Consiglio regionale, Nino Marmo, in campo per succedere a Nichi Vendola, che ha governato la Puglia per dieci anni. Non è ancora certo se la coalizione vorrà procedere con le primarie che vengono chieste dall'area che fa capo all'ex ministro Raffaele Fitto. Spero sia ancora possibile, aggiunge l'oncologo, seguire un percorso di maggiore coinvolgimento dei cittadini pugliesi attraverso le primarie, rispetto alle quali avevo già manifestato la mia piena disponibilità. Ma il tempo corre ed io sento il dovere di rispondere alle tante sollecitazioni del territorio che mi richiamano le mie responsabilità. Infine annuncia che nei prossimi giorni presenterà l'ossatura del suo programma, dieci proposte per la Puglia, le dieci leve per la ripresa e l'orgoglio che condividerò e discuterò in rete e nelle piazze pugliesi. Stiamo valutando l'ipotesi di un ricorso per verificare se tutto si è svolto secondo il rispetto delle regole previste. Lo annuncia in una nota il coordinatore del nuovo centrodestra di Bari, Giuseppe Cramarossa, riferendosi alle elezioni per il consiglio della città metropolitana del capologo pugliese. A nostro parere sottolinea Cramarossa qualcosa non quadra tra gli eletti del comune di Bari. Dovevano infatti essere sei, compreso il sindaco, invece in totale sono sette. Per l'area metropolitana il nuovo centrodestra, si legge ancora nella nota, ha un consigliere eletto, il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, mentre il consigliere comunale di Altamura, Tommaso Lorusso, è il primo dei non eletti. Vedremo se il consigliere in più nel capoluogo debba cedere il suo posto. Nel complesso, conclude Cramarossa, non possiamo che spimere soddisfazione per il risultato raggiunto sul base regionale. In apertura parliamo di importanti novità sulle arterie che collegheranno la città alla nuova ala est dell'aeroporto di Bari, che sarà completata entro la fine dell'anno. Intanto questa mattina è stato illustrato il progetto dall'assessore regionale Giannini e dal sindaco De Caro, che ha fatto il primo sopralluogo sul cantiere. C'era per noi Barbara Cirillo. Distese di verde e piante rampicanti all'esterno, una via latte illuminata sul soffitto che segue la linea del mare fatta di resina, sabbie e conchiglie vere che indica un sentiero immaginario sul pavimento. Sono solo alcuni dei dettagli della nuova ala est dell'aeroporto di Bari, Carol-Wuytila, che sarà completata entro la fine dell'anno. Aria, acqua e terra, gli elementi della Puglia ci sono tutti, dai rami d'ulivo che rivestiranno la scala mobile, ai legni delle barche dei pescatori che incorniciano un'icona di San Nicola. E poi c'è la zona esterna fatta di specchi, la zona selfie come l'ha definita l'architetto Francesco Angarano, ideatore del progetto che questa mattina il direttore generale Marco Franchini e l'amministratore unico di aeroporti di Puglia, Giuseppe Acerno, hanno illustrato all'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Gianni Giannini e al sindaco Antonio De Caro che ha annunciato importanti novità sulle nuove arterie che collegheranno l'aeroporto alla città a partire dall'incontro ancora da fissare con i 18 consiglieri metropolitani. Ci incontreremo perché dobbiamo guardare insieme il masterplan dell'aeroporto di Bari perché sono previste nuove infrastrutture, in particolare una nuova viabilità dalla parte ovest per l'accesso, c'è la possibilità di utilizzare l'attuale aeroporto militare come aeroporto civile attraverso la realizzazione di un ponte che collegherà i due aeroporti e la delocalizzazione del cara, incontreremo a breve anche il ministero degli interni e entro la fine dell'anno sarà inaugurata la nuova parte, la nuova ala, l'ala est della stazione passeggeri con le nuove sale d'imbarco. Un aeroporto insomma che non sarà di Bari ma di tutta la Puglia come ha dichiarato l'assessore Giannini. L'aeroporto di Bari, il caro Luitiva non è l'aeroporto della città di Bari ma è l'aeroporto della Puglia e non solo della Puglia perché qui diventa riferimento anche per la Basilicata e per parte della Calabria. Siamo in perfetta sintonia col piano nazionale degli aeroporti varato dal ministero dei trasporti, Bari, aeroporto internazionale, questa struttura valida. Adesso parliamo del caso della palazzina del Genio Civile a Bari Vecchia, il caso è finito dinanzi al Tar. Oggi la prima udienza in Camera di Consiglio è stato infatti accolto il ricorso del Comitato per il Parco del Castello che chiede la proroga della sospensione dei lavori della nuova struttura. Ieri a manifestare sono stati i bambini di Bari Vecchia, della scuola San Nicola e 36 associazioni che nel fossato del Castello Svevo hanno immaginato e disegnato il parco che sarà. Tornano a scioperare i vigili urbani. Una cinquantina questa mattina ha ritardato l'avvio del turno di lavoro delle 8 non garantendo il servizio davanti alle scuole e provocando qualche disagio al traffico. I vigili nel loro turno hanno diritto ad una pausa di 15 minuti e per protestare ne hanno soffrito tutti insieme a inizio turno. Secondo gli accordi col Comune, gli agenti svolgono un orario settimanale di 36 ore anziché di 35 come previsto da contratto maturando al mese un giorno di riposo. A Palazzo di Città oggi chiedono di poter scegliere quando usufruirne. Sanità ancora in primo piano, un'aggressione al mese almeno ai danni degli operatori dell'ospedale di Venere di Carbonara una situazione che ha mosso i sindacati e la politica. Silvia Di Pinto. Una delle operatrici è finita addirittura dallo psichiatra dopo l'ennesima aggressione da parte di utenti inferociti. L'ultimo episodio solo dieci giorni fa, almeno una volta al mese, nel front office del di Venere sono costretti a intervenire le forze dell'ordine. Il CUP dell'ospedale è, da codice rosso, ne sono convinti gli operatori che si sono rivolti al sindacato Federazione Lavoratori Pubblici per chiedere la riorganizzazione del servizio e condizioni di sicurezza. Il sindacato ha scritto alla Commissione Regionale Sanità e al Dipartimento Prevenzione dell'ASL. I dipendenti sono costretti ad affrontare situazioni di grande stress senza l'adeguata formazione, spiega Vito Dallano. Urge organizzare diversamente il servizio e toccherà ai nuovi dirigenti farlo. Almeno una volta al mese chiamano il Garabiniero le forze dell'ordine perché ci sono aggressioni da una parte e dall'altra per via di questo accalcamento che ho definito bestialità civile. A sostenere la richiesta degli operatori CUP, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, Ignazio Zullo, che lancia un messaggio politico. Bisogna azzerare tutto il management delle ASL e procedere subito alle nuove nomine senza che questo deventi oggetto di campagna elettorale, l'unico modo per aprire davvero un nuovo corso nella sanità pugliese. Abbiamo bisogno di delineare un nuovo corso e se è vero io non mi attardo nella polemica Emiliano-Vendola sui commissari o direttori generali o dirsi voglia. Questi signori hanno sempre detto che i direttori generali sono distanti dalla politica e allora se sono distanti dalla politica i direttori generali che si nomino ora? Distanti dalla politica. Quindi Emiliano non può dire aspettiamo perché deve arrivare lui, li deve nominare lui. Se sono distanti io dico se c'è distanza o li nomina Vendola, o li nomina Emiliano o li nomina Zulla, devono essere distanti. E vediamo l'omicidio di Paola Labriola. Il PM di Bari Pisani contesta l'aggravante della crudeltà e dei futili motivi nei confronti di Vincenzo Poliseno, imputato con rito abbreviato per l'omicidio volontario della psichiatra barese. Secondo la perizia psichiatrica, infatti, nonostante un accertato disturbo della personalità, Poliseno all'epoca del delitto era capace di intendere e volere, soprattutto è attualmente in grado di partecipare coscientemente al processo. Futuri motivi quindi perché il delitto sarebbe stato causato da una condizione di malessere e insoddisfazione per la terapia indicata dalla dottoressa e crudeltà, in quanto dopo averle precluso ogni via di fuga ad averle inferto i primi colpi, Poliseno avrebbe continuato a colpire la Labriola con inaudito accanimento. Emittenti locali ancora in affanno, stavolta per l'assegnazione delle frequenze. L'autorità garante per le comunicazioni, infatti, ha rivisto il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, tagliando quelle che irradiano interferenze con le televisioni degli stati comunitari confinanti. Lunedì 27 ottobre il Presidente del Consiglio regionale Onofrentrona incontrerà i parlamentari pugliesi e l'emittenza privata per capire come evitare la soppressione di 12 su 18 reti in Puglia. Ieri la questione è stata sollevata dal Consiglio regionale che ha approvato un ordine per portare il problema all'attenzione del Governo nazionale.